Benvenute e benvenuti presso l'impianto sportivo 2A di Praco. L'impianto sportivo è l'anno sportivo 2014-2011 è stato rivolificato tramite il progetto che vede una collaborazione tra Pneus, Wisp Nazionale, SE Sport Europa e Wisp Comitato di Praco. Come vedrete ci sono stati rivolificati 4 campi di questo impianto, 2 campi al chiuso, polivalenti dove è possibile giocare a tennis e a calciacip, due impianti invece all'aperto dove si può giocare solo a tennis. Nel 2019 uno di questi campi è stato coperto con l'organizzazione di Pneus di Praco per permettergli il suo utilizzo anche durante l'inverno quando le temperature abbondano già l'incorporizio per i 15 centri. Questo impianto è stato appunto rivolificato con il progetto di pneumatici per uso e di rivolificazione e praticamente sono stati utilizzati per questi campi delle modalità diverse che se avete bisogno e se avete voglia o molte di conoscere più pubblicamente potete andare sul sito e conoscere tutte queste indicazioni fracliche. Questo impianto non soltanto coniuga l'attività sportiva e la rivolificazione ambientale, questo impianto è importante perché fate conto che qui durante l'inverno ci sono circa 400 atleti, 400 soci della Giù 2A che usufruiscono di questi spazi. Nell'estate ce ne sono all'incirca 500 e soprattutto d'estate questo è un posto dove vengono organizzati i centri iscritti della BIA, quindi ci sono famiglie e bambini che vengono qui per usufruire di questi fantastici spazi. Questo impianto è importante anche perché è sito in una zona del comune di Prato periferica e quindi è stato fatto anche un investimento di tipo sociale, questo impianto è importante anche perché ci facciamo attività sociale, nel senso che tutte le attività che vengono fatte vengono fatte a prezzi calmerati rispetto al prezzo di mercato. Vi faremo vedere un po' di attività, vi faremo vedere come è sviluppato questo impianto e tutto quello appunto che abbiamo organizzato in questi anni. Nel 2014 l'impianto comunale Polivalente, sito in via Roma, da alcuni anni gestito dalla Polisportiva 2A, ha inaugurato quattro campi, un bel investimento, due coperti e due scoperti, usando tecniche all'epoca molto innovative di recupero di materiale. Tali strutture in questi anni hanno dato esiti positivi, positivi perché sono state veramente usate, vengono usate tantissimo, con un utilizzo veramente importante. Rappresenta questo impianto e queste strutture un luogo di riferimento per lo sport cittadino. La resa dei campi è ottimale in quanto offre un buonissimo comfort a livello fisico e anche in quanto a velocità di palla e rimbalzo permette un elevato allenamento a livello agonistico. L'impianto però ai campi sono utilizzati anche per altro, noi facciamo i centri estivi e è importantissimo e utile che siano superfici che siano in sicurezza e che aiutino a sviluppare sport di squadra e altre attività al di là del tennis e la resa da questo punto di vista è veramente perfetta. Grazie a tutti.